Musica Vibonati, sequestrata la discarica emersa a seguito frana, possibili illeciti di natura ambientale. Ospedale di Polla, il direttore Pasquale Vasto la replica alle accuse dei sindacati e invita a verificare gli atti prima di accusare. Taxi sociale, si amplia la platea degli aventi diritto al servizio, sottoscritto protocollo di intesa tra UICI e comunità montana. Polla, due bambini trovano un portafoglio e lo restituiscono, il riconoscimento dell'amministrazione comunale. Grotte dell'Angelo al Via Litter per l'acquisizione del sito al patrimonio comunale di Auletta. Ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura andiamo nel Golfo di Policastro e precisamente a Vibonati, a seguito verifiche. La discarica emersa dopo la frana dello scorso gennaio è stata sottoposta a sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Lago Negro. Pare siano stati accertati anche reati ambientali in virtù anche dei rifiuti emersi con la frana. Vediamo. Arriva il sequestro per possibili danni ambientali della discarica di località Santa Lucia Vibonati che nel mese di gennaio, a seguito dello smottamento del terreno provocato da una frana, era emersa in maniera preoccupante. Una situazione che, partendo dalla denuncia di un cittadino rivoltosi ai referenti del gruppo di minoranza Entra nel Futuro, aveva portato ad effettuare indagini e verifiche sul posto. Un luogo dove era prevista inizialmente la realizzazione di impianti sportivi, come denunciato all'epoca dal capogruppo di minoranza Giovanni Scognamiglio, e che a seguito della frana aveva portato alla luce un'ingente quantità di rifiuti di ogni specie e di dubbia natura, ipotizzando anche una loro pericolosità. Nel mese di gennaio erano stati effettuati dei sopralluoghi da parte dell'ARPAC per effettuare carotaggi sul sito della discarica, alla presenza anche del sindaco Borrelli. Nei giorni scorsi è arrivata la decisione e il conseguente sequestro del sito di circa 750 metri quadri da parte dei militari dell'ufficio circondariale marittimo di Palinuro, su disposizione della Procura della Repubblica di Lago Negro, per presunti illeciti di natura ambientale. A seguito delle verifiche effettuate sul posto è stato rinvenuto un'ingente quantitativo di rifiuti di natura urbana, in parte ancora interrati e parte emersi a seguito della frana, oltre a materiale ferroso e plastico. Inoltre è stato anche rinvenuto materiale di scarto derivante da demolizioni o costruzioni. Nel corso delle verifiche era stato inoltre rinvenuto anche uno scarico di percolato che a seguito successive analisi pare fosse privo delle autorizzazioni necessarie. Una serie di accertamenti che hanno quindi portato alla convalida del sequestro dell'area in quanto pare sia stata accertata la pericolosità dello stesso sito, in virtù di un possibile allargamento della frana, mentre le indagini proseguono per consentire alle forze dell'ordine di accertare eventuali responsabilità. Ed ieri la notizia dell'appropriazione in debita di fondi pubblici da parte di un dirigente e due funzionari della provincia di Salerno a cui la Guardia di Finanza ha sequestrato soldi e beni per oltre 6 milioni di euro. Duplicavano i mandati di pagamento per lavori appaltati già conclusi e pagati oppure ne emettevano di nuovi per interventi mai realizzati. Sono 36 mandati di pagamento finiti nel medino della Corte dei Conti, tutti emessi tra il 2007 e il 2009. Si tratta, come ha specificato oggi il quotidiano, le cronache di lavori presso alcuni istituti scolastici, tra cui anche Agropoli, Angri, Capaccio, Sala Consilina e la sistemazione mai avvenuta del manto stradale di alcune arterie di Agropoli, Angri, Battipaglia, Sala Consilina e Salerno Città. Sarebbero coinvolti anche 5 imprenditori tra l'Agronocerino Sarnese e il Vallo di Diano. E parliamo ora di San Italia. Accusi arrivate dalle sigle sindacali per una presunta inefficienza della gestione del servizio sanitario presso l'ospedale Luigi Curto di Polla da parte del direttore Vastola trovano immediata replica da parte dello stesso dottor Vastola che attacca duramente i sindacati accusandoli a sua volta di aver formulato gravi denunce senza però mai aver verificato atti e documenti. Il dottor Pasquale Vastola replica punto per punto alle sigle sindacali rivolgendo loro ulteriori accuse. Vediamo. Le note delle sigle sindacali dei giorni scorsi spingono il direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla e il dottor Pasquale Vastola a produrre chiarimenti che mettono in luce anche alcune mancanze da parte delle stesse sigle sindacali nella difesa in primis dei cittadini e degli utenti del servizio. Il direttore Vastola inoltre nella nota di replica alle accuse subite parla anche di una necessaria collaborazione verso un unico obiettivo finalizzato al miglioramento del servizio sanitario invitando anche il personale sanitario, sindaci del territorio, direttore generale dell'Asra di Salerno a coadiuvare gli sforzi di chi si sta adoperando a favore del territorio e per garantire una sanità efficiente per gli utenti del servizio e dell'ospedale. Nella sua nota in cui spiega come ogni parola sia suffragata da atti documentali che il direttore Vastola mette a disposizione per la verifica delle veridicità scrive il disappunto indirizzato a questa direzione va indirizzato ai mittenti riferendosi ai sindacati. In apertura sottolinea come non sia nello stile della direzione sanitaria del nosocomio pollese scaricare le responsabilità ma va chiarito come in particolare per ciò che riguarda il pagamento del lavoro straordinario non può essere corrisposto se non autorizzato ed inoltre va prima corrisposto l'orario di lavoro ordinario con lo stipendio base. Nella lettera indirizzata alle sigle sindacali il dottor Pasquale Vastola restituisce ai mittenti le accuse riferite ad una presunta difficoltà comunicativa evidenziando come la direzione sanitaria ha previsto da mesi un incontro mensile fissato nel primo mercoledì di ogni mese a cui però si presenta solitamente una sola organizzazione sindacale. Replica quindi punto per punto alle accuse dei referenti sindacali. Più che gratuita scrive Vastola l'affermazione di depotenziamento dei servizi essendo lo scrivente in grado di dimostrare tutto ciò che ha fatto in sei mesi per la riqualificazione e il potenziamento dell'ospedale. Ricordando poi come falsa anche l'affermazione di smembramento dell'ufficio turni che invece la direzione sanitaria ha potenziato con due operatori impegnati nei controlli dei turni sia del comparto che della dirigenza invita le sigle sindacali a non reiterare affermazioni false come per esempio programmazione dei servizi ad oggi inesistenti ricordando come dal primo marzo è stata istituita una pronta disponibilità endoscopica prima inesistente e che provocava una migrazione sanitaria verso altri presidi e che a partire dal primo aprile saranno attivate iniziative di prevenzione della displasia dell'anca e di prevenzione della morte in culla a cui si aggiunge la riattivazione di posti letto in medicina reparto chiuso per covid la riattivazione della camera a pressione negativa rimasta inutilizzata l'attivazione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura di oncologia e la riorganizzazione del poliambulatorio dei service del pronto soccorso e dell'archivio delle cartelle cliniche oltre a numerose altre iniziative per le quali il direttore Pasquale Vastola invita gli iscrimenti a prendere visione degli atti si invitano, conclude Vastola, le organizzazioni ad astenersi da accuse non dimostrabili per le quali è invece possibile dimostrare il contrario con documenti, fatti e dati taxi sociale si amplia la platea degli aventi diritto al servizio del taxi sociale fortemente voluto dalla comunità montana Vallo di Diano che ne ha curato la progettazione e l'attivazione nell'ambito di strategia delle aree interne da ieri 29 marzo anche i soci dell'UIC residenti nel Vallo di Diano potranno accedere al servizio, vediamo A poche settimane dall'avvio del servizio del taxi sociale iniziativa rivelatasi di grande valore per il territorio si amplia la platea degli aventi diritto al servizio rivolto alle categorie fragili e che non hanno la possibilità di spostarsi in piena autonomia nella mattinata di ieri è stato ufficializzato l'accordo tra comunità montana Vallo di Diano presieduta da Francesco Cavallone e Unione Italiana Ciechi e di Povedenti sezione di Salerno rappresentata dal presidente Raffaele Rosa con la sottoscrizione del protocollo anche gli iscritti all'UIC potranno usufruire del servizio di taxi sociale che consentirà loro di spostarsi autonomamente un servizio che assicurato ai residenti del Vallo di Diano riempie di grande soddisfazione il presidente dell'UIC Salerno Rosa che spera possa essere ripreso anche da altri territori L'Unione Italiana Ciechi che sul territorio a livello provinciale è presente da oltre 66 anni oggi scrive una bella pagina di queste meravigliose iniziative di questo protocollo d'intesa che partirà da oggi per tutti i nostri soci della zona qui del Vallo di Diano ed è stata una cosa bellissima poter dare una mano e un aiuto a tanti amici che si trovano nella situazione di essere i ciechi e i povedenti quindi un giorno particolare un giorno veramente molto significativo che voglia auspicare che anche altre realtà come queste della comunità montana qui del Vallo di Diano possono prendere ad esempio anche sull'intero territorio provinciale L'iniziativa di carattere sociale promossa nell'ambito di strategie delle aree interne è stata fortemente voluta dal presidente dell'ente montano Francesco Cavallone puntando con determinazione sulla sua attivazione ritenendolo un servizio di grande rilevanza sociale per tutto il Vallo di Diano curato dall'assessore Antonio Pagliarulo che si è occupato della definizione della progettazione in ogni sua parte e dell'attivazione del servizio in collaborazione con il consorzio sociale Vallo di Diano Tanagro Pagliarulo già in fase di prima stesura aveva previsto l'ipotesi di poter ampliare anche in un secondo momento la platea dei soggetti destinatari in base alle esigenze sociali e umane che possono sopravvenire come è avvenuto con l'UIC con la sottoscrizione del protocollo di intesa avvenuto nella mattinata di ieri 29 marzo su iniziativa di Lorenzo Peluso il servizio in poche settimane si sta rivelando di grande successo e molto apprezzato come ha avuto modo di sottolineare il presidente Cavallone nell'ambito di un mese come si può vedere sicuramente man mano che adesso la notizia si sta diffondendo sul territorio aumentano sempre più le richieste di tutti questi utenti soggetti fragili che vogliono utilizzare questo servizio per noi è un motivo di grandissima soddisfazione la sottoscrizione di questo protocollo con l'Unione Cichi e i povedenti perché naturalmente nell'ambito dei soggetti fragili sicuramente rientra anche questa categoria di persone per noi è un motivo di grandissima soddisfazione che un territorio attraverso la comunità mondana sia dando un indirizzo ben e preciso proprio perché credo che sia un problema culturale di miglioramenti dei servizi del territorio e soprattutto di andare incontro a quelle che sono le esigenze di queste persone le problematiche sono tante da cui sono colpite queste persone che hanno una forza spirituale una forza di affrontare la vita che sicuramente è completamente diversa rispetto a quelli tra virgolette di altri noi poveri e mortali l'entusiasmo che ho visto in loro mi ha commosso ed è stato un bel momento condividere questo percorso ci spostiamo ora a Polla dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso ha consegnato un riconoscimento ai due bambini che nei giorni scorsi hanno trovato un portafoglio e lo hanno restituito un lodevole gesto di gentilezza vediamo un complimento sincero per il lodevole gesto di gentilezza dimostrato queste le basi del buon senso civico e dell'educazione impartita dalla famiglia radici solide che daranno frutto nella vita e questo è il messaggio che si legge sulle targhe che l'amministrazione comunale di Polla ha consegnato nella mattinata di ieri ai due scolari che nei giorni scorsi hanno ritrovato un portafoglio smarrito e lo hanno restituito al proprietario a consegnare il riconoscimento sono stati il sindaco di Polla Massimo Loviso l'assessore alla scuola e alla gentilezza Federica Mignoli e la dirigente scolastica Sabrina Rega i due alunni che si sono distinti per il comportamento mostrato con l'odevole atto di gentilezza come hanno affermato dall'amministrazione comunale sono Antonio Sorrentino e Antonio Soccodato i due ragazzini si sono guadagnati il riconoscimento dunque dopo che nei giorni scorsi hanno trovato un portafoglio nei pressi di una pizzeria di polla e lo hanno consegnato al proprietario del locale affinché fosse poi restituito per noi amministratori ha affermato l'assessore Federica Mignoli questi comportamenti sono motivo di orgoglio di una comunità con un forte senso di rispetto e responsabilità un bel gesto che arriva dai bambini i quali come spesso accade sono un esempio anche per gli adulti nel portare avanti i comportamenti contraddistinti da sani valori gli stessi che da sempre l'amministrazione comunale di Polla attraverso anche l'assessorato alla gentilezza promuove con varie iniziative e attività rivolte al mondo della scuola e non solo Il comune di Auletta ha preso ufficialmente atto della sentenza della Corte di Cassazione emessa nel 2013 che pronunciò la parola fine sulla controversia circa la proprietà delle grotte dell'Angelo Il Consiglio Comunale ha dato ora mandato agli uffici tecnici per gli atti conseguenziali per l'acquisizione del sito al patrimonio comunale le grotte saranno quindi attribuite formalmente ad Auletta vediamo Le grotte dell'Angelo saranno acquisite al patrimonio comunale e intestate al comune di Auletta è stato messo un punto anche dalla politica alla storica querelle con un consiglio comunale straordinario del 6 marzo scorso il comune di Auletta ha preso atto della sentenza della Corte di Cassazione che nel 2013 pronunciò la parola fine alla controversia circa una servitù di Pascolo rigettando il ricorso proposto dal comune di Pertosa il consiglio ha dato ora mandato agli uffici tecnici comunali per gli atti conseguenziali ai fini dell'acquisizione del sito al patrimonio comunale è storia vecchia la questione molto delicata va avanti da oltre mezzo secolo dal 1951 in poi una serie di sentenze per dichiarare la demanialità universale delle grotte a favore del comune di Auletta il cui territorio include il sito qualche anno fa dopo l'ultima sentenza ha preteso almeno l'aggiunta del nome e il cambio della denominazione in grotte di Pertosa Auletta nonostante le decisioni giudiziali il comune di Auletta ha sempre mantenuto un profilo basso rispetto alla vicenda e anche ora sottolineano che la presa d'atto votata dal consiglio all'unanimità dei presenti nulla cambia per quel che riguarda la gestione che resta in capo alla fondazione Mida ha un significato strettamente politico ha precisato il sindaco Pietro Pessolano nel corso del consiglio già in passato ha spiegato qualche precedente amministratore aveva sollecitato la presa d'atto della sentenza un'attività certamente da espletare ma che è stata rimandata al solo scopo di evitare equivoci nei confronti del comune limitrofo di Pertosa visti i rapporti straordinari con i precedenti e gli attuali amministratori verso i quali tale azione avrebbe potuto essere interpretata a concluso come un affronto oltre all'aspetto giuridico e politico va detto che in ballo ci sono anche degli introiti sempre utili alle casse di un ente comunale come sottolineato dall'opposizione nel lamentare ritardi il consiglio sul tema è stato infatti convocato a distanza di oltre otto anni dalla sentenza sarebbe stato utile e stato evidenziato già investire gli uffici comunali per l'adempimento degli atti e semmai riscuotere anche i proventi derivanti dagli attività produttive oltre che le imposte sugli immobili presenti e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco bentornati alla seconda parte del nostro Tg andiamo nel Cilento e precisamente ad Agropoli dove dopo otto anni sono di nuovo attive le sale operatorie dell'ospedale civile ieri una paziente di Castella San Lorenzo positiva al covid è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura al femore vediamo effettuato presso le sale operatorie del nosocomio agropolese allestite e riorganizzate da tempo il primo paziente covid positivo l'intervento di orto-traumatologia è stato effettuato dallo staff del presidio San Luca di Vallo della Lucania un buon segnale si spera per la struttura ospedaliera e per il suo futuro il 31 marzo terminerà l'emergenza covid ma il virus a quanto pare continuerà a circolare con l'apertura delle sale operatorie dunque si va a garantire un servizio importante e indispensabile ai pazienti contagiati che necessitano di interventi chirurgici attualmente l'ospedale civile agropolese attivo è un reparto covid e uno di malattie infettive a bassa e media intensità con l'avvio degli interventi chirurgici su pazienti positivi e l'attivazione dei reparti il covid center potrebbe diventare vero e proprio polo covid dove al suo interno ci sarebbero anche un reparto di cardiologia uno di ortopedia ginecologia e ostetricia che garantirebbero prestazioni specifiche ai malati covid alla BCC Montepruno parte un programma di risparmio di investimento che permette anche ai minorenni di beneficiare di vantaggi del piano di accumulo di capitale l'istituto di credito diretto da Michele Albanese ha rivolto quindi le sue attenzioni anche ai giovanissimi vediamo una nuova opportunità a disposizione dei soci e clienti della BCC Montepruno l'istituto di credito diretto da Michele Albanese da sempre sensibile e attento al tema del risparmio ha rivolto le sue attenzioni ai giovanissimi mettendo a disposizione un programma di risparmio e di investimento che permette ai minorenni di beneficiare dei vantaggi del piano di accumulo di capitale è un investimento realizzato in collaborazione con NEAM società di asset management del gruppo Cassa Centrale e società di gestione del fondo NEF che nel corso dell'evento organizzato dal Sole 24 Ore lo scorso 22 marzo ha ricevuto per la terza volta consecutiva il prestigioso riconoscimento di miglior gestore fondi italiani Small a conferma della correttezza della strategia che lo contraddistingue e la validità delle procedure di selezione dei gestori adottate da NEAM il prodotto PAC Minori ha dichiarato Elisabetta Giordano vice direttore area amministrativa ha un duplice effetto positivo sia sui familiari che iniziano a costruire qualcosa per i propri figli o nipoti sia sul minore in quanto nonostante l'età attraverso la cultura del salvadanaio potrà iniziare a stimolare anche quella del risparmio gettando fin dal principio le basi per una maggiore responsabilità economica è una forma molto elastica che consente di mediare tra obiettivi di crescita e controllo del rischio considerando la volatilità dei mercati elemento oggi molto delicato e particolare visti i tempi il PAC NEF permette di affrontare l'investimento in modo efficace e tranquillo lo consideriamo conclude un modo originale e particolarmente sicuro per pensare al domani con i piedi ben saldi nel presente ci sarebbe un buco di 340 mila euro nei conti della proloco di Albanella denunciarlo l'attuale giovane presidente Davide Mazza nel 2019 riesce nell'impresa di far riaprire le iscrizioni e indire dopo oltre 15 anni regolari elezioni per il rinnovo del direttivo lui risulta il primo eletto con 159 voti viene nominato presidente con entusiasmo e pronto a rilanciare le attività della proloco ma presto nel riordinare gli atti comprende di essersi cacciato in un brutto pasticcio si accorge che ne mancano di parecchi ed importanti documenti una situazione che oltre ad esporre potenzialmente lui stesso e la proloco a problemi di natura fiscale e penale impedisce di fatto alla stessa di poter ricevere nuovi finanziamenti pubblici vediamo un buco di 340.000 euro nei conti della proloco di Albanella a tanto ammontano le sovvenzioni pubbliche ricevute dall'associazione negli ultimi anni ma come sono stati utilizzati questi fondi ad oggi è impossibile saperlo e ricostruirlo anzi nei conti figurano oltre i 21.000 euro di debiti da pagare tra contenziosi con agenzie delle entrate siae e assegni insoluti a denunciare tutto ciò è l'attuale giovane presidente Davide Mazza correva l'anno 2015 quando provò ad entrare a far parte della proloco della sua comunità ma la sua richiesta venne sempre ignorata così comincia a scrivere ripetutamente al presidente in carica e al comune fino all'estate del 2019 quando riesce in un'impresa fa rindire dopo oltre 15 anni regolari elezioni per il rinnovo del direttivo primo eletto con 159 voti viene nominato presidente ma ben presto comprende di essersi cacciato in un brutto pasticcio nel riordinare atti e documenti infatti si accorge che ne mancano di parecchie importanti nello specifico non si trovano più verbali da assemblea e dei revisori dei conti bilanci previsionali e consuntivi di svariati anni in particolare dal 2006 al 2015 periodo durante il quale a spaventare è anche la totale mancanza dei libri contabili ovvero l'assenza della necessaria documentazione fiscale in primis fatture e ricevute di pagamento idonee a giustificare decine e decine di prievi di denaro contante dal conto corrente della Proloco tutti senza alcuna causale un buio decennale che preoccupa non poco l'attuale presidente ritrovatosi in una situazione che oltre ad esporre potenzialmente lui stesso e la Proloco a problemi di natura fiscale e penale impedisce di fatto alla stessa di poter ricevere nuovi finanziamenti pubblici mi sono rivolto ad un avvocato di fiducia per capire come muoversi dopo aver scritto più volte ai componenti dell'ex direttivo e al comune di Albanella per ottenere la documentazione mancante ma finora nessuno mi ha mai risposto spiega lo stesso Mazza a stile tv per questo oggi lancio un appello pubblico affinché ritornino al loro posto i libri contabili e i registri mancanti altrimenti mi vedrò costretto a presentare un esposto alla procura per cautelare me stesso il direttivo attuale e la proloquo di Albanella al momento paralizzata dal punto di vista dei fondi pubblici e oberata di debiti ed era questo l'ultimo servizio di oggi io vi ringrazio per averci seguito vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi e vi ricordo che siamo visibili anche in diretta streaming dal nostro sito www.unotvweb.it cliccando su live streaming grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito